Ciao a tutti, bentornati! Sono stata un po' assente nelle ultime settimane perché avevo delle priorità, degli impegni, delle scadenze quindi ho dato priorità a quello piuttosto che magari a registrare video Oggi torno con un video in cui voglio parlarvi dei prodotti must, iconici, degli ultimi anni quindi parliamo soprattutto dei prodotti che si sono visti tantissimo, soprattutto qui su YouTube Sto parlando di prodotti che hanno fatto praticamente la storia Alcuni di questi ce li ho, altri ad esempio non li ho provati, altri non li ho più però di quelli che possiedo voglio mostrarvi un po' quali secondo me sono stati prodotti che hanno praticamente sbancato e si vedevano dovunque, soprattutto su YouTube Quindi parto subito da un prodotto, non makeup ma piuttosto skin care e sto parlando del famosissimo balsamo di Nuxe Questo qui è il Rev de Miel, non è altro che un balsamo rigenerante e io ce l'ho da un sacco di tempo e non mi è ancora terminato Allora in realtà questo balsamo può non piacere a tutti oltre che dice di essere, di avere la fragranza al miele io sento degli agrumi all'interno, non sento zero miele, non lo sento per niente A parte questo a me piace soprattutto quando ho le labbra molto secche perché ha una texture molto corposa va a creare praticamente un filtro sulle labbra e soprattutto di notte mi aiuta a risvegliarmi con delle labbra molto più rimpolpate, molto più morbide ed è un prodotto che si è visto tantissimo ed è stato venduto tantissimo è uno dei prodotti must di Nuxe Io ce l'ho, ripeto, da un sacco di tempo e mi piace però avendo anche altri prodotti lui lo utilizzo soprattutto quando cerco davvero una botta fortissima di idratazione perché quando esco non mi piace molto questo effetto troppo questo film che si viene a creare sulle labbra perché da un effetto opaco che non mi fa impazzire poi si vede che c'è questa patina sulle labbra quindi lo applico soprattutto in casa, quindi la notte Altro prodotto, secondo me must e questo io credo, soprattutto chi come me vede i video su Youtube da tanti anni l'avrà visto sicuramente sto parlando del Mary Lou Manizer ed è l'illuminante di The Balm è un illuminante che si è visto tantissimo io l'ho visto praticamente a tutti ed è questo illuminante color oro tendenzialmente sì sul dorato è un illuminante non molto, diciamo non si vede tantissimo è quasi impercettibile dona quella freschezza al viso che a me piace ce l'ho da diversi anni, secondo me è anche scaduto, non lo so perché infatti l'effetto è un po' diverso rispetto a diversi anni fa perché diverso tempo fa quando l'applicavo si vedeva quella soprattutto contro luce questo effetto molto bello, quasi effetto bagnato ultimamente noto che scompare un po' però infatti questo forse dovrò cestinarlo perché ce l'ho davvero tantissimi anni però questo per me rimane uno dei prodotti iconici più venduti più visti soprattutto qui su Youtube e a me piaceva tantissimo infatti l'ho utilizzato tanto non si vede molto il solco secondo me dalla telecamera io in realtà lo vedo perché l'ho utilizzato davvero tantissimo e mi è piaciuto tanto questo prodotto altro prodotto super iconico e secondo me iconico tuttora sto parlando del blush di Nars, l'orgasm io in realtà qui ce l'ho nella versione duo dove ho sia il blush che anche la terra laguna orgasm è uno dei blush più venduti al mondo penso che con questo prodotto Nars abbia sbancato è un blush bellissimo dona questo effetto molto abbronzato leggermente caldo con questo effetto un po' più luminoso perché ha delle perlescenze dorate ha un effetto bellissimo io anche questo ce l'ho da un po' anche qui il solco non si vede ma c'è si vede soltanto nella terra infatti la terra secondo me adesso ho comprato la nuova perché questa cialdina secondo me si è un po' non lo so, vedo che sfumano benissimo invece il blush riesco ancora ad utilizzarlo e mi piace tantissimo ha queste perlescenze multicolor che vanno dal dorato anche un po' verdino, giallo insomma davvero bellissimo vediamo se riesco a farvi uno swatch non so se si riesce a vedere eccolo qui e a me piace un sacco proprio l'effetto soprattutto in controluce perché d'estate è stupendo soprattutto se non amate applicare tanti prodotti questo blush funge sia da blush che da semi illuminante proprio perché queste perlescenze permettono di avere questa riflettenza molto bella ed è un blush che a me piace tantissimo e voglio anche acquistare la versione X non so come si chiama che è un po' più strong è un po' più intenso come colore sempre Nars il correttore anche questo prodotto è stato un correttore stra venduto e tuttora anche come per il blush è un prodotto che si vende un sacco e a me è piaciuto allora io ho avuto un periodo di incertezza su questo prodotto un altro in cui invece mi è piaciuto tantissimo io ce l'ho nella colorazione Custard e in realtà voglio provare anche la versione un po' più aranciata per andare a coprire le occhiaie prima in passato io soffrivo un po' di più di occhiaie forse adesso con la skin care un po' più attenta insomma riesco ad attenuare molto di più le occhiaie infatti soffro più di borse che di occhiaie per questo insomma anche per quanto riguarda i correttori aranciati ne applico poco rispetto al passato che avevo necessario bisogno di un correttore aranciato cosa che magari adesso non mi serve sai il fatto che voglio provarlo questo qui a me è piaciuto allora l'ho amato soprattutto d'estate d'inverno non so perché non l'ho apprezzato d'estate mi è piaciuto tanto perché è molto coprente ma allo stesso tempo ha una consistenza molto sottile ha una texture sottilissima quindi non fa strato è abbastanza coprente questa colorazione in realtà anche questo è quasi terminato infatti proprio agli sgoccioli non lo sto quasi più utilizzando questo colore nello specifico si adatta perfettamente alle mie occhiaie e mi piace proprio perché sembra quasi che quando lo vado a stendere si perde la crema e si ha questo effetto quasi polveroso tra virgolette ma in realtà non lo è non va assolutamente nelle pieghe e mi piace perché è sottile e quindi mi permette di non avere questo effetto contorno occhi super segnato ed è un correttore che secondo me merita tutta la fama che ha avuto altro prodotto che amo tantissimo e anche questo è tra i più famosi secondo me prodotti di make up sto parlando della Naked in realtà da quando è uscita la Naked 1 che io non ho mai avuto piuttosto mi hanno regalato tempo fa la Naked 3 ma non ho utilizzato quanto la Naked Basics 2 si la Naked 2 ed è una palette versatilissima dai toni freddi che a me piace super nude quindi potete fare un make up super semplice ma anche un po' più intenso uno smoky io l'ho utilizzata tantissimo nell'ultimi tempi l'ho un po' accantonata ma quando l'ho ripresa mi sono resa conto che è una delle palette che io più in assoluto ho utilizzato le polveri sono bellissime si sfumano benissimo sono sottili e questa è una palette che si è vista e strarivista in realtà questa è la seconda versione delle palette di Urban Decay delle Naked Basics perché in realtà ne uscì un'altra la Naked 1 la Basic 1 che aveva dei colori un po' più caldi rispetto a questa la Basic 2 infatti ha colori un po' più freddi che a me piacciono tantissimo visto che le colorazioni fredde non sono proprio molto vendute rispetto a quelle calde questa qui la trovo anche una palette utilizzabile anche adesso che stanno tornando anche un po' di più queste colorazioni un po' più fredde e a me piace un sacco secondo me anche lei merita tantissimo tutto il successo che ha avuto perché è una palette bellissima oltre che ad essere comoda l'ho portata ovunque nel mondo e bellissima un prodotto che vi ho menzionato negli ultimi tempi e che secondo me è anche lui super iconico è il fondo di Estée Lauder il Double Wear questo è un fondo che esiste da tantissimi anni io purtroppo per non so per quale ragione ho voluto provare tanti altri prodotti questo qui l'ho sempre un po' snobbato in realtà è uno dei fondotinta migliori che esistono sul mercato è un fondo della coprenza modulabile ma dall'effetto abbastanza leggero chiaramente se cercate un effetto super full coverage andando a diciamo modularlo e stratificarlo si può ottenere un effetto molto più coprente è no transfer il che è fantastico soprattutto in questo periodo che abbiamo le mascherine con questo prodotto io riesco a non sporcarle quindi ad utilizzarle anche un paio di giorni ha un SPF 10 che non è tanto ma ha un minimo lo fa il che è anche un buon punto a suo favore e secondo me è un fondotinta che merita il prezzo è abbastanza alto è un fondo che non è mai passato di moda è un fondo che vada il packaging è rimasto sempre lui almeno che io ricordi da quando ricordo lo ricordo io è sempre lui io lo consiglio a chiunque sia a chi ha la pelle secca che ha la pelle grassa io ho la pelle mista e per la mia pelle va benissimo per la pelle particolarmente secca magari dipende anche dai periodi e dalla stagione secondo me quando magari le temperature sono un po' più fredde io consiglierei di applicarli anche con un goccio di siero esiste anche la versione summer quindi un po' più luminosa che voglio assolutamente provare però questo sicuramente è uno dei fondi migliori che esistono sul mercato e quindi si capisce anche perché è così osannato è così famoso è fantastico questo fondo un prodotto anche lui super famoso e stiamo parlando del mascara di Too Faced di questo mascara io l'ho provato sia in versione full ultimamente in diversi calendari l'ho ritrovato e noi sono stata molto contenta sto parlando del Better Than Sex è uno dei mascara più famosi al mondo io infatti non so se mi seguite su Instagram ho fatto una sorta di regalo tra cui anche questo mascara quindi sono molto contenta di aver regalato questo prodotto perché è un prodotto che è vero che ne esiste da tanto tempo ma che merita ha questo scovolino a clessidra quindi permette di lavorare benissimo le ciglia di avere questo effetto molto pieno ma anche abbastanza incurvato è un mascara che io tutte le volte che mi capita di averlo ne sono felice l'ho voluto regalare perché ho tanti mascara da provare da iniziare e visto che lo conosco molto bene mi faceva piacere fare un regalo a voi quindi ho fatto questo regalo questo piccolo bottino su Instagram infatti vi ricordo di seguirmi su Instagram perché spesso magari lì sono più interattiva e sicuramente capiterà anche in futuro di fare altri altri regali tornando a lui è un mascara che merita merita un sacco io tra l'altro ho anche provato la versione che si chiama Damengirl che ha questo packaging un tipo di amante molto bello che ho preferito anche a lui perché li allunga tantissimo però sono molto simili tra di loro forse l'altro ha uno scovolino un po' più cicciotto e quindi dà un effetto più lungo più voluminoso però merita merita anche lui tutta la fama che ha avuto quindi sicuramente chi ha seguito e segue video su YouTube da tanti anni tutti questi prodotti che vi sto menzionando li avrete già visti e strarivisti però volevo fare un po' un vi sblocco un ricordo e quindi sono un po' malinconica in questo periodo e quindi volevo fare questo video un altro prodotto non c'è bisogno di grandi presentazioni mi basta dire MAC quindi rossetto di MAC che il più famoso secondo me a livello mondiale resta sempre lui sto parlando del Ruby Woo che è questo rosso un rosso bellissimo un rosso freddo che a me piace da morire io ce l'ho da tantissimi anni tra l'altro mi è stato anche regalato da poco non l'ho ancora scartato perché voglio terminare prima lui prima di iniziare l'altro rossetto adoro la fragranza dei rossetti di MAC è super opaco infatti è un retro matt quindi molto opaco l'unico difetto di questo prodotto è che dovete avere le labbra molto idratate moltissimo se è visto su qualsiasi giornale del pianeta quindi su tutte le copertine il più pubblicizzato del mondo ed è secondo me il rosso più bello che esista sul pianeta se non fosse perché è troppo troppo secco quindi io idrato tantissimo le labbra infatti a volte ci applico prima un burro e poi applico lui proprio perché dopo qualche ora tende un po' a seccare però se andate ad idratarlo avete un effetto bellissimo super velluto super pieno è un rosso che poi sulla mia carnagione sta bene perché è un rosso freddo ed è il rossetto che secondo me non passerà mai di moda proprio è un evergreen con Ruby 1 sbagliate infine voglio anche menzionarvi un altro rossetto che negli ultimi anni ho scoperto e sto parlando del rossetto di Dior il 999 che è il loro rossetto rosso più famoso ve lo paragono al Ruby Woo questo rossetto a differenza del Ruby Woo non è un rossetto opaco è un rosso un po' più caldo non è proprio la punta di rosso che mi sta meglio ma l'ho utilizzato mi piace tanto ha un effetto non cremoso però resta comunque lucido quasi saten è proprio il rosso tipico da signora se non amate l'effetto opaco sicuramente io vi consiglio di magari provare questo rossetto qui di Dior ed è molto bello se è un rosso anche lui con i rossi non vi sbagliate perché almeno il rossetto rosso dovete averlo serve comunque sempre tra i due ora come ora forse come finish preferisco il 999 di Dior come colore preferisco il Ruby V come punta di rosso ultimamente sono un po' distante dai rossetti troppo opachi mi piacciono di più quell'effetto un po' più satene ve l'ho detto già anche altre volte cosa che magari prima lungi da me i rossetti cremosi però chiaramente si cambia le mode cambiano e io personalmente sto amando molto di più questi rossetti un po' col finish un po' più lucido non proprio opaco e nulla io avrei voluto mostrarvi anche per dirvi il primer di Urban Decay il primer potion che ho avuto ma purtroppo non ce l'ho più di prodotti iconici soprattutto qui su youtube ce ne sono tantissimi però io guardando un po' nei cassetti mi sono resa conto che ho ancora dei prodotti che amo tanto e che comunque secondo me non sono mai passati di moda magari se ne parla un po' meno come ad esempio la palettina la naked che in realtà secondo me merita sempre non va mai dimenticata e quindi insomma volevo fare questo video un po' così un po' malinconico ditemi quali sono se secondo voi ce ne sono altri quali sono secondo voi i prodotti più iconici degli ultimi anni quindi dagli anni 2000 parliamo e dell'ultimo ventennio facciamo dell'ultimo ventennio e nulla spero che questo video vi sia piaciuto io mi sono divertita anche a cercare a scovare un po' di questi prodotti che avevo nei cassetti ripeto ditemi quali sono i vostri vi ricordo chiaramente di iscrivervi al canale di passare anche nella mia pagina Instagram e come sempre io vi mando un bacio grande ci vediamo presto ciao ciao